Non è il primo presidente, non è l'unico presidente degli Stati Uniti a credere nell'astrologia e a usarla come strumento di guida. Abbiamo per esempio Theodore Roosevelt, presidente dal 1901 al 1909, quindi un po' di tempo fa, grande appassionato di questa materia. Abbiamo Franklin Delano Roosevelt, anche qui non sono parenti se non alla lontana, presidente quattro volte dal 1933 al 1945, in una fase importantissima della storia, citava spessissimo gli oloscopi. Quindi, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale c'era una disinvoltura nell'approcciarsi all'astrologia come se fosse uno dei tanti strumenti per fare delle scelte politiche. E il presidente degli Stati Uniti non era l'unico leader degli alleati ad avere una passione per il paranormale e per le pseudoscienze. Ce n'era anche un altro, questo qui, Winston Churchill. Aveva addirittura la strega personale, beh, forse è un'esagerazione. Winston Churchill era il primo ministro britannico dell'epoca, è stato in carica, in quell'epoca tra il 40 e il 45, era un devoto seguace di una medium, Helen Duncan, che era una medium scoziose popolarissima, che sembrava avere dei poteri paranormali straordinari.